Il test di frammentazione del DNA spermatico è un test diagnostico di secondo livello che utilizziamo sempre più spesso nella diagnosi dell'infertilità maschile. Per capire a cosa serve il test di frammentazione bisogna sapere che cos'è la frammentazione del DNA spermatico o meglio bisogna sapere che all'interno della testa dello spermatozoo il patrimonio genetico la cromatina il DNA per capirci che lo spermatozoo contiene appunto nella sua testa deve essere condensato cioè deve essere compattato come fosse un gomitolo di lana molto ordinato molto compatto e questa compattazione della cromatina spermatica avviene proprio in fasi particolari della maturazione dello spermatozoo in modo che i filamenti del DNA siano il più possibile compatti e tenuti insieme tutti i filamenti tenuti insieme l'uno rispetto all'altro. Esiste proprio una fase dello sviluppo dello spermatozoo in cui avviene la cosiddetta protaminazione quindi una reazione particolare in cui la cromatina spermatica viene condensata. Quindi l'indice di condensazione del DNA spermatico, l'integrità del DNA spermatico è fondamentale per il funzionamento dello spermatozoo a diversi livelli in fase di fertilizzazione cioè nella fase in cui lo spermatozoo deve penetrare nell'ovocita, in fase di sviluppo embrionale cioè nelle fasi dell'impianto dell'embrione a livello uterino e quindi tutte le prime fasi della fertilizzazione necessitano di una adeguata condensazione del DNA al punto che ad oggi si considera la condensazione del DNA, l'integrità del DNA spermatico come un marker di fertilità dello spermatozoo. Ci sono addirittura degli studi, diversi studi sempre più recenti che danno anche dei cut off significativi di integrità del DNA spermatico e in particolare al di sopra del 30 per cento di DNA frammentato sembrerebbe esserci un fattore prognosticamente negativo sulla fertilizzazione. Ecco ma quali sono le cause di un'anomala integrità del DNA spermatico? Cause possono essere testicolari o post-testicolari, cosa intendo? Ci possono essere dei meccanismi alterati durante la maturazione, lo sviluppo degli spermatozoi all'interno dei testicoli oppure ci possono essere delle cause patologiche che interferiscono con questa integrità sviluppo dello spermatozoo completato. Le cause testicolari, quelle che avvengono quindi durante lo sviluppo, sono problematiche molto tecniche e molto complesse anche da stabilire, da spiegare. Ci possono essere appunto le alterazioni di quella fase di frotaminazione che citavo prima, cioè di quella fase di impaccamento della cromatina all'interno della testa durante lo sviluppo dello spermatozoo o ci possono essere dei fenomeni cosiddetti di alterata apoptosi. L'apoptosi è il meccanismo di morte cellulare programmata, cioè le cellule che non vanno bene, sono invecchiate, vengono sistematicamente eliminate. Durante la maturazione dello spermatozoo, una quota di spermatozoi va incontro ad apoptosi perché appunto il sistema non riconosce la cellula come fatta bene, per intenderci. Ci possono essere dei momenti in cui queste cellule fatte male sfuggono all'apoptosi programmata e quindi si possono sviluppare degli spermatozoi che hanno al loro interno delle alterazioni del DNA. In realtà le cause più facilmente comprensibili e anche quelle più pratiche, se vogliamo, di alterata condensazione del DNA riguardano poi delle patologie, degli stati patologici che comunemente osserviamo durante le nostre visite di consulenza per l'infertilità. Molto frequentemente il varicocele ad esempio, quindi questa vena varicosa che insorge a livello testicolare, che colpisce un ragazzo su quattro, quindi una patologia molto frequente, il varicocele produce uno stress ossidativo che aumenta e facilita la frammentazione del DNA. Così come le infezioni genitali, soprattutto le prostatiti, che aumentano il contenuto all'interno del plasma seminale dei cosiddetti ROS, cioè le specie reattive dell'ossigeno, questi radicali liberi che impediscono una corretta reazione di capacitazione a livello dello spermatozoo attraverso un meccanismo intracellulare appunto di alterazione del DNA spermatico. Noi siamo spesso portati a pensare che solo l'età femminile correli in modo negativo con la fertilità, ma in realtà anche l'età paterna avanzata è un fattore prognostico negativo, perché mano a mano che il nostro organismo invecchia, anche i meccanismi di maturazione degli spermatozoi invecchiano e quindi sembra che l'età dei 40 anni costituisca una sorta di spartiacque di qualità della maturazione degli spermatozoi, cioè uomini con età superiore e i 40 anni hanno un indice di frammentazione del DNA significativamente peggiore rispetto a uomini con un'età inferiore. Altre condizioni che correllano con un aumento dell'indice di frammentazione del DNA sono l'obesità e il diabete che per ragioni ormonali metaboliche portano a questa alterazione della struttura del DNA. E poi il capitolo dei tumori. Sia i tumori in sé, soprattutto il tumore del testicolo e i linfomi di Hodgkin hanno una correlazione negativa con la frammentazione del DNA spermatico. Non solo la diagnosi tumore in sé, ma spesso anche le terapie che facciamo per i tumori possono costituire un rischio di questa condizione. In particolare le radiazioni che diamo al testicolo possono interferire con la capacità degli spermatozoi di avere un DNA condensato. In particolare mi riferisco alle radiazioni ionizzanti, ad esempio una radioterapia a cui un paziente può essere sottoposto può essere un fattore di rischio per un'anomala condensazione del DNA spermatico per le radiazioni diffuse che eventualmente possono colpire anche il testicolo. Esistono anche dei potenziali dubbi sulla tossicità delle radiazioni non ionizzanti, ad esempio le fonti di calore, le reti wifi, l'utilizzo del cellulare. Tutte queste fonti di energia a radiazioni non ionizzanti non hanno ancora una chiara tossicità, ma non si può neanche dire che non facciano nulla, diciamo. Quindi è uno di quei capitoli della medicina, dell'andrologia in particolare, dove c'è ancora molto da studiare. E poi non dimentichiamoci dei cosiddetti interferenti endocrini che possono alterare sia la parte femminile che la parte maschile. Interferenti endocrini sono quelle sostanze che possono alterare il metabolismo ormonale. Quelle di cui più diffusamente si sente parlare sono le materie plastiche, il bisfenolo, gli iftalati o i ritardanti di fiamma, cioè sostanze chimiche che hanno un'azione simil ormonale che in realtà è tossica per tutti quegli equilibri da mantenere nello sviluppo, in particolare nel nostro caso, dello spermatozoo. Ultimo, ma non ultimo, forse il fattore di rischio più frequentemente responsabile di alterazioni, il fumo. Il fumo è tossico per la fertilità maschile, è tossico per gli spermatozoi, il fumo aumenta la percentuale di DNA frammentato nella testa dello spermatozoo. Nella pratica come si fa questo test di frammentazione del DNA spermatico? Sostanzialmente per un uomo equivale a un deposito per un esame del liquido seminale. Quindi le reazioni che portano alla misurazione di questo indice di frammentazione vengono fatte su campioni di spermatozoi depositati come per un esame del liquido seminale, cioè con masturbazione. Nella pratica clinica, quando diamo l'indicazione a fare un test di frammentazione del DNA spermatico ad un uomo in cerca di figli. A dispetto del fatto che le linee guida sia americane che europee hanno inserito il test di frammentazione del DNA spermatico nel workup diagnostico del maschio infertile, in realtà noi abbiamo il dovere, secondo me, di contestualizzare, di identificare bene il paziente a cui fare un test di frammentazione poiché appunto i cutoff, i valori di normalità di questo test non sono ancora univoci a livello mondiale e soprattutto non esiste un solo tipo di misurazione della frammentazione del DNA ma ci sono diverse tecniche che a seconda del laboratorio possono dare un valore variabile anche all'interno della stessa persona. Quindi con questo voglio dire che l'indicazione a eseguire un test di frammentazione del DNA va valutata sul singolo caso. I pazienti a cui noi diamo l'indicazione, a cui richiediamo questo test di frammentazione fondamentalmente sono i pazienti con un'infertilità inspiegata o l'infertilità cosiddetta idiopatica, cioè quell'infertilità in cui non c'è motivo per non avere il figlio, parametri seminali normali, stato di salute normale ma questa gravidanza non arriva e quindi un test di approfondimento può essere la frammentazione del DNA. Oppure quando invece ci sono delle condizioni patologiche, come ad esempio il varicocele, anche allo scopo di valutare la risposta alla correzione del varicocele, secondo noi ha senso richiedere una test di frammentazione del DNA spermatico nei pazienti col varicocele. Oppure in presenza di una coppia che abbia avuto aborti ripetuti, dobbiamo valutare in quel caso anche il fattore maschile di frammentazione. del DNA spermatico perché, come dicevo all'inizio, l'integrità del DNA spermatico è fondamentale non solo per la fertilizzazione dell'ovocita ma anche per l'impianto e lo sviluppo delle prime fasi embrionali. E in presenza di fattori di rischio come il fumo, ad esempio, vale la pena andare a verificare questo indice di frammentazione del DNA spermatico. Quindi, in sintesi, questo test di frammentazione del DNA spermatico è un test sicuramente utile, nuovo, molto innovativo e promettente per valutare la fertilità di un uomo, anche eventualmente nei confronti della riuscita di cicli di fecondazione assistita. Tuttavia, è ancora forse troppo presto per dire che il test di frammentazione del DNA sia un test da fare a tappeto su tutti gli uomini alla ricerca di una gravidanza e il cui esito può essere utilizzato per predire il buon esito di una gravidanza spontanea o no. Quindi, come molto spesso succede in medicina della riproduzione, occorre usare il buon senso e contestualizzare la situazione clinica della coppia che abbiamo davanti.